Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca i carabinieri di Arezzo hanno arrestato un uomo accusato di aver rapinato un anziano all'esterno dell'ospedale. Aveva rapinato un uomo di 72 anni all'esterno dell'ospedale San Donato mentre stava passeggiando con la moglie. Lo aveva spinto e malmenato portandogli via il portafoglio di tasca. Adesso i carabinieri lo hanno arrestato. La vittima si trovava nei pressi del parcheggio di via Lasky. La coppia di coniugi seppur sotto shock dopo l'accaduto ha immediatamente chiesto aiuto ai passanti che hanno allertato le forze dell'ordine. La centrale operativa ha inviato sul posto diverse pattuglie che hanno avviato le ricerche del sospetto. Grazie alle precise descrizioni fornite i militari sono riusciti ad individuare l'autore della rapina nel giro di pochi minuti. L'uomo straniero e regolare già noto alle forze dell'ordine è stato individuato in via Masaccio all'ingresso del parco del Pionta. Durante le fasi di identificazione, prima ha tentato la fuga a piedi, poi una volta raggiunto dai militari che lo hanno rincorso ha opposto resistenza. Al momento dell'arresto si era già disfatto della refurtiva, adesso dovrà rispondere del reato di rapina aggravata e resistenza pubblico ufficiale. Le indagini intanto proseguono per accertare se l'arrestato possa essere coinvolto in altri episodi simili avvenuti recentemente nella stessa zona. A Fogliano della Chiana una donna di 70 anni invece è stata denunciata per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Già nota alle forze dell'ordine custodiva in casa 10 grammi di ascisce ed un bilancino di precisione. Sempre a Fogliano è stato segnalato prima un 45enne e poi denunciato per furto aggravato. Aveva infatti rubato una bici. I carabinieri a Castiglion Fiorentino invece hanno arrestato una 48enne accusato di maltrattamenti in famiglia. L'uomo in evidente stato di agitazione psicofisica dovuto all'abuso di sostanze alcoliche aveva aggredito il padre. I militari hanno anche sequestrato una sciabola. Sempre a Castiglion Fiorentino i carabinieri hanno denunciato un truffatore che fingendosi un operatore delle poste aveva cercato di spillare alla vittima 40.000 euro. A Sansepolcro infine a finire nel guaio una 25enne che aveva già smontato i pezzi di un motorino rubato poche ore prima per poi rivenderli illegalmente. In Valdarno invece c'è stato un grave incidente questo pomeriggio attorno alle 14.45 sul posto i sanitari del 118 attivati per l'investimento di una pedone in via Ponte Mocarini a Terra Nuova Bracciolini. Il giovane è stato travolto mentre attraversava la strada e è stato trasportato con il soccorso Pegaso in codice 3 all'ospedale Fiorentino di Chiareggi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. E sempre in Valdarno a San Giovanni questa mattina una tragedia sfiorata. I vigili del fuoco nel distaccamento di Montevarchi sono infatti intervenuti in via Lorenzo dove la copertura di un edificio di una civile abitazione composto da due appartamenti è ceduto. Al momento della crollo l'edificio era stato fortunatamente già fatto evacuare dalla polizia municipale dunque non vi era nessuno presente. Pochi minuti prima un operaio edile che stava svolgendo alcuni lavori aveva notato qualcosa che non andava, aveva così avvesato i proprietari. Poco dopo è avvenuto il crollo. E adesso torniamo a parlare invece della cagnolino aggredito ieri a Campo di Marte e interviene adesso l'assessore Carlettini. Sta bene e adesso è accudito dai volontari dell'EMPA di Arezzo il cucciolo che era stato maltrattato, lanciato in aria più volte a Campo di Marte di fronte agli occhi attoniti dei passanti che avevano subito chiamato le forze dell'ordine. Il ragazzo, un trentenne, è stato invece denunciato per maltrattamenti e abbandono di animali nonché resistenza pubblico ufficiale. Sull'episodio adesso è intervenuta anche l'assessore alle politiche per la tutela e la difesa degli animali, Giovanni Carlettini. Ci avevamo visto giusto all'inizio del mandato quando grazie alla disponibilità del comandante della polizia municipale Aldo Poponcini abbiamo creato un nucleo specifico di agenti dedicati alla tutela e alla difesa degli animali i quali, prosegue, hanno dimostrato ancora una volta la loro efficienza sia salvando il cucciolo che placando i comportamenti poco ortodossi del protagonista della vicenda che si rifiutava persino di salire in auto ammanettato. Infine l'invito ai cittadini, ossia quello di rivolgersi alla polizia municipale ogni qualvolta si trovino dinanzi ad un caso di maltrattamento troveranno infatti ascolto e un pronto intervento. Elezioni amministrative, come noto a Cortona, si andrà al ballottaggio perché i due candidati sindaci più votati, Mione Vignini, non hanno ottenuto il 50 più uno dei voti necessari per essere eletti. I due hanno ottenuto rispettivamente il 45,4 e il 35,6% dei voti. Dunque quasi due settimane ancora di campagna elettorale per Vignini si tratta di recuperare i voti necessari per risalire il gap nei confronti di Meoni che è arrivato appunto ad oltre il 45%. Determinanti saranno gli oltre 1.500 voti andati al terzo candidato Nicola Carini sostenuto dalle forze di centro-destra. Sentiamo le parole adesso di Meoni e Vignini. Nuova campagna elettorale si riparte dallo zero a zero. Come sta affrontando questi giorni? Ah bene, stiamo parlando con le persone, con i nostri elettori, non solo. Stiamo promuovendo il nostro programma che crediamo essere molto efficace per tutto il territorio. In realtà il suo vantaggio è pari a 10 punti percentuali, quindi insomma il vantaggio c'è. Come se lo sta conservando? Ma io credo che il ballottaggio sia tutta un'altra lezione, quindi non sono con i piedi per terra. Stiamo lavorando convintamente, come abbiamo fatto in tutta la campagna elettorale, appunto promuovendo quelli che sono i punti del programma, spiegando quello che vorremmo fare sui primi 100 giorni, ma direi entro fine 2024, in modo che i cittadini possano essere assicurati dalla nostra squadra. I suoi primi 100 giorni quali saranno? 100 giorni è un modo di dire politico che a me non convince. Io direi di pensare 2024, in realtà sono sei mesi, dove potremmo portare avanti sicuramente quelli che sono i progetti in corso, in itinere, ma anche quelli nuovi, a partire dalla sicurezza stradale, dagli incroci, dalle strade, da quello che abbiamo promesso in campagna elettorale. Ecco, su questo, anche sulle frazioni, saremmo attenti, anche a partire dall'illuminazione, in tutti i progetti, ma anche presentando subito il progetto del centro sportivo Camuscia e appunto anche quelle che sono le messe in sicurezza delle strade vicinali, perché questo abbiamo promesso entro l'anno. Questi progetti io prometto di portarli avanti e di iniziare anche i cantieri. Con il centro-destra si è sentito dopo l'appoggio, diciamo, di Carini con il post ufficiale? No, Carini mi ha inviato un messaggio, ho detto grazie, siamo persone, non siamo, come dire, in battaglia, siamo persone, siamo avversari. Io non farò apparentamenti, questo è noto, perché credo che non siano opportuni, ma tuttavia terrò di conto anche dei partiti che mi supporteranno e poi vedremo di costruire una vera squadra per le prossime future elezioni. Vignini, come ha detto più volte, si riparte dallo 0 a 0, come sta andando questa nuova campagna elettorale? Appunto è un'altra partita, questa volta la giochiamo anche in maniera diversa, invece che semplicemente proporci nei vari incontri, nelle frazioni, a questo punto stiamo in mezzo alla gente, parliamo singolarmente con le donne e gli uomini che abitano nel nostro bel comune e cerchiamo di convincerli, primo, a tornare a votare e secondo, a votare per chi ha un progetto complessivo di cortone e non per chi invece continua a fare propaganda su piccoli progetti che non si attueranno mai. Lei ha detto no ad apparentamenti, ma strizza comunque l'occhio a Verusca Castellani e a Sarabaldetti, come? Il mio ragionamento è abbastanza semplice, il 45% degli elettori ha scelto Meoni, ma il 55% però no. Quindi io devo operare a maglie il più possibile larghe, cercando di comprendere tutte le esigenze e senza porre limiti di tipo ideologico che peraltro sarebbero ormai fuori della storia. Nello stesso tempo, con il rispetto dovuto ai miei competitor, e cioè appunto a Verusca Castellani e a Sarabaldetti, cerco anche di fare mie alcune delle loro proposte, quelle che ritengo siano più qualificanti, ma non tanto per strizzare l'occhio al loro elettorato, ma semplicemente per far loro capire che c'è un momento storico nel quale bisogna dimenticare le divisioni del passato e bisogna invece unirsi per un risultato superiore, che è quello di cambiare un'amministrazione che ha oggettivamente fallito. Nicola Carini però ha fatto un chiaro messaggio a Meoni, sto con lui. Era inevitabile, io credo che questa sia la decisione che è venuta dai vertici del partito e la rispetto naturalmente, sono convinto però che gli elettori di Carini, di Casucci, del centrodestra non avranno così facilmente la possibilità e la volontà soprattutto di andare a votare per chi li ha sbeffeggiati durante tutta la campagna elettorale e quindi il mio appello è rivolto anche a loro, a quell'area moderata che vuole un'amministrazione capace di dialogare e non di imporre per forza le proprie idee. Cambiamo argomento, domani è la giornata mondiale della donatore di sangue, l'azienda sanitaria stila un bilancio positivo per quanto riguarda le donazioni, ma fa anche un invito. Cresce il numero delle donazioni di sangue nella struttura trasfusionale di Arezzo che nel 2023 si attesta sulle 8.214 unità, in salita rispetto al 2022 quando si era registrata una flessione rispetto all'anno precedente. Attività di raccolta in crescita anche nella struttura di Bibbiena, stesso trend in quella di Sansepolcro e Cortona. Nella struttura del Valdarno, dove è stata data priorità le donazioni di plasma, l'attività di raccolta invece è lieve flessione rispetto al 2022 a fronte di un'attività di terapia trasfusionale che nel centro del Valdarno vede invece un sensibile incremento pari al 10%. Ad Arezzo le attività svolte dalla struttura trasfusionale all'interno del Sandonato, aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, riguardano la raccolta di emocomponenti a cui si affianca la produzione, congelamento, stoccaggio e distribuzione degli stessi raccolti ad Arezzo e nelle vallate e ne svolta anche la consulenza di medicina trasfusionale e la consegna di emocomponenti ai reparti alle case di cura convenzionate. Inoltre è in programma breve l'apertura di un punto della rete di medicina rigenerativa. La giornata mondiale dei donatori di sangue che si celebra il 14 giugno è importante in quanto serve a ricordare l'importanza della donazione, sottolinea il dottor Pietro Pantone, responsabile dei centri trasfusionali dell'Astra Toscana Sud-Est. Inoltre voglio rivolgere un invito a tutti, soprattutto i giovani, a diventare donatori. C'è sempre bisogno di sangue e plasma, conclude. La donazione aiuta a fare la differenza nella vita di molte persone. Ancora salute, questa mattina all'auditorium dell'ospedale Sandonato di Arezzo si è parlato di teleassistenza. Durante l'accertamento infermieristico che ho eseguito durante il mio accesso ho evidenziato diversi modelli disfunzionali della salute. Da un lato dello schermo i professionisti sanitari, dall'altro i pazienti nelle proprie abitazioni. La telemedicina è sempre più centrale nella sanità del futuro, ma anche del presente. L'opportunità è quella di essere vicino ai cittadini, vicino alle persone. Una sanità di prossimità, perché molte persone fragili altrimenti non si curerebbero. Un tema al centro del convegno all'auditorium a Pieraccini dell'ospedale Sandonato di Arezzo. Teleassistenza, nuove opportunità dell'assistenza infermieristica territoriale, il titolo dell'incontro. La teleassistenza, che è una forma di telemedicina che è svolta dagli infermieri, dalle professioni sanitari, dai riabilitatori, quando una volta andati a casa la prima volta possono poi seguire successivamente in teleassistenza i loro pazienti. Può rappresentare un aiuto importante non solo per noi per garantire livelli adeguati di assistenza, ma anche per le persone che si sentono prese in carico e accompagnate nei loro percorsi di cura. Un servizio utile alle famiglie a retine, sviluppato adesso anche grazie alla donazione da parte dei distretti a Rotari della Rietruria. 15 tablet, 15 ring light e un monitor parametrico. Saranno utilizzati a domicilio del paziente grazie agli infermieri di famiglia e comunità. Quando valutano una situazione che deve essere in qualche modo subito, immediatamente inviata ad uno specialista, faranno questo passaggio immediato. E quindi questo avvelocizzerà soprattutto la risposta di quelle patologie croniche che vediamo quotidianamente. Questo significa anche fare qualche cosa che sia proiettato per il futuro, qualcosa di utile per il futuro. Una mattinata di iniziative per commemorare l'ottantesimo anniversario della liberazione della provincia di Arezzo dal martirio di Santetani, Don Giuseppe Tani e Eroldo Rossi. L'appuntamento è per sabato, 15 giugno, quando verranno ricordati i protagonisti e vicende della Seconda Guerra Mondiale attraverso la deposizione di corone nei luoghi simbolo della città. E poi l'intitolazione di un'area verde a Aroldo Rossi ed un convegno su Santetani. Il tutto è stato organizzato dalle ACLI. Voltiamo pagina. È stato inaugurato un percorso espositivo per rivivere il legame della famiglia Vasari con le antiche manifatture aretine, a partire dalla mestiere di vasaio esercitato proprio dal nonno. Un altro spaccato del forte legame che lega Giorgio Vasari alla città di Arezzo è quello raccontato nella mostra ospitata dal Museo Archeologico di Arezzo. Nella nostra mostra mettiamo in evidenza come il legame con gli aretini a vasa fosse personale dal punto di vista di Giorgio Vasari ma fosse legato anche alla famiglia. Il nonno Giorgio, omonimo del nostro Giorgio, era Vasaro e imitava i vasi antichi, ne sapevo riscoprire anche la tecnica produttiva e andò addirittura a ricercare il luogo delle antiche fabbriche proprio alle porte della nostra città nella zona delle carcerelle, siamo a lungo via Fiorentina. Trovò qui molti resti delle antiche fabbriche e addirittura alcuni vasi interi furono da lui donati per il tramite del vescovo di allora a Lorenzo il Magnifico di passaggio in città. Ecco quindi che gli aretini a vasa sono anche un motivo della prima relazione della famiglia Vasari con la casata dei Medici. La mostra rappresenta un'altra tappa del cammino che porterà poi in autunno a celebrare il grande Vasari. Un cammino che vedrà poi successivamente coinvolti ovviamente Casa Vasari, che è il museo dove appunto Vasari è in maniera più forte ricordata, essendo la sua stessa abitazione dove ci sarà allestita una mostra dedicata proprio al tema della casa, dell'architettura che è molto importante nel percorso vasariano. E poi più avanti ancora nel tempo al Museo Nazionale d'Arte Medievale Moderna, un approfondimento sul grande dipinto con Vito di Ester Assuero, che verrà appunto studiato e verranno presentati disegni e schizzi legati appunto all'elaborazione di questo grande quadro, per poi arrivare appunto alla grande mostra, curata da Cristina Cidini e Alessandra Baroni, dove appunto saranno presenti anche opere che vengono dai nostri musei. Sabato 15 giugno ci sarà la prima cerimonia ufficiale per la 145esima edizione della Giostra del Saracino, anche in questo caso con delle importanti novità. Vediamo. L'estrazione delle carriere su un nuovo palco. Sabato 15 giugno la prima cerimonia ufficiale per la 145esima edizione della Giostra del Saracino, vedrà così un'importante novità. È stato infatti rinnovato nella forma e scenografia il palco in piazza della Libertà per l'atteso appuntamento con l'estrazione delle carriere, durante il quale i capitani pronunceranno il loro giuramento. La vecchia struttura pone ormai difficoltà per l'omologazione e così con il supporto di un'azienda a retina ne è stata acquistata un'altra che gli a retini potranno vedere nella serata di sabato. Nelle scorse ore poi un'altra attesa novità, la consegna della lancia d'oro al quartiere vincitore avverrà in uno spazio della tribuna. Da sabato Arezzo si immergerà così completamente nel clima giostresco, mentre i quartieri andranno avanti con gli eventi della settimana del quartierista. In Piazza Grande, da domenica 16 e martedì 18 giugno, dalle 20.30 alle 23.30 si svolgeranno le prove dei giostratori. Mercoledì 19 alle 21.30 in programma la simulazione di giostra, giovedì 20 alle 21.30 invece la prova generale dedicata alla memoria di Vittorio Farsetti, mentre venerdì 21 alle 11.30 in Piazza San Francesco si svolgerà in forma solenne la cerimonia della bollatura dei cavalli e l'investitura dei giostratori. Sabato 22 giugno infine la giostra di San Donato, dedicata a Giorgio Vasari nei 450 anni dalla morte avvenuta nel 1574. A Castiglion Fiorentino è tutto pronto invece per il Palio dei Rioni. Questa mattina la presentazione e l'annuncio della madrina sarà Matilde Brandi. Annunciato anche il nome del mossiere di questa edizione, Gennaro Milone, un'assoluta novità per la piazza castiglionese. Sono stati poi svelati anche i nomi di Fantini, che correranno il Palio e il Memorial dedicato a Beppe Gentili. E adesso la pagina dello sport. L'aretino Lorenzo Corsetti è campione intercontinentale di kickboxing. Il successo è arrivato a Capolona in occasione della 28esima edizione del Gran Galà degli Sport da combattimento alle stelle del ring, dove il 26enne atleta del team Iachini ha combattuto nei 72,5 kg contro il 38enne serbo Sladhan Dragics. Ed il giovane karateca Samuele Nicchi della società Accademia Karate Arezzo ha invece conquistato il titolo di campione italiano esordiente in categoria 68 kg a soli 13 anni. Oggi è stato ricevuto in consiglio comunale dal sindaco e dall'assessore allo sport Federico Scapecchi. Al giovane è stata consegnata anche una targa per ricordare questo successo ma anche l'abbraccio dell'intera città. E Davide Nicola invece è il vincitore della 33esima edizione della Timone d'Oro. Il premio che l'Associazione Italiana allenatore di calcio assegna ogni anno al tecnico che si è maggiormente distinto. Il tecnico succede nell'albo d'oro della manifestazione ad Antonio Conte. La cerimonia di premiazione in programma martedì 25 giugno alle 20 all'hotel Minerva di Arezzo. Questa per stasera era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci.